Musica Ma buon salve a tutti Oggi siamo tornati dopo quasi un anno o po' di più Con la reaction a i Rage Quit Compilation Mamma mia preparatevi che ne vedremo delle belle Senza perdersi in chiacchiere direi di iniziare subito la reaction Ma che c'ha? Ma che c'ha? Iniziamo bene Vabbè vai pugna la tv potranno mancare Scommetto che giocava a FIFA Sto sicuro RIP TV Attenzione a questo Eh piano zì Piano Ma che gli tira le carte igieniche che cavolo gli tira Ah si incazza col caricamento Interessante Oh god credo Piano piano Che ha fatto? Ah Aia E questo ragazzino ci è arrivato a fare questo No Geometri da Cioè il gioco pre-geometri dash Non è finita bene Oh god No 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 This thing is a piece of crap No No cosa fa No rompe la La play o xbox Addirittura Addirittura Lol lol No Rip tastiera No C'è gente che arriva così No Rip portatile No Ma che cavolo Ma come è conciato questo Ha rotto pure la sedia Eh che cavolo sui computer nel 15-18 Ah madonna È una madonna Questo non stava bene Eccolo Eeeh Tiriamo giù tutto Ottimo Finita male Partita finita male Ma che ha fatto Ha ribaltato pure il letto Ma che cavolo fa Rip televisore Ma sì Qualche pugno in più Non basta Aia Aia Che c'è Ah questo è il computer del tizio di prima Bene E fu così che si ruppa ancora di più Questo succede quando si disconnette il gioco Ma cosa fa Se lo rompe in testa Ma cosa fa? Oh Gesù veramente esiste sta gente Bene Nooo E niente E niente Rip pc Ma no Ah è di plastica Penso che era vera Bene Ma che c'è Ma che c'è Ma che c'è Ma che c'è Oh no nooo la vedo brutta rip console ottima soluzione ottima ma ma nooo 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 ecco cosa succede quando rompi il fratello per giocare a minecraft stop nooo nooo oh my god find out what i'm gonna do what are you doing stop 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 sono pazzi in america sono pazzi ma si è indistruttibile ora non più oh my god find out what i'm gonna do e niente è stato bello stop stop nooo oh my god bene oh my god quindi la prossima volta attenzione questo gioca a fifa oh no 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 l'ha sfondato l'ha sfondato orca madonna orca madonna ma che cazzo ma che cazzo ma più forte oh dai sta gente non sta bene vi ripeto sta gente non sta bene vabbè che dire direi di chiudere qua questo video spero che in qualche modo vi sia piaciuto lasciato un like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram e su altri social link in descrizione e noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti ma la prossima e grazie a tutti Grazie a tutti.